La squadra sta bene, ha dimostrato di avere gli attributi, io sono convinto che lo farà vedere. Insomma è inutile che ci giriamo intorno, l'unica cosa che convincere è riprendere la nostra marcia. Però questo non vuol dire che sarà facile, perché di fronte avremo una squadra, la Paganese, che sicuramente ci farà soffrire. Però noi dovremmo cercare di giocare questa partita cercando a tutti i costi di vincerla, con equilibrio, con tranquillità, senza farci prendere dall'ansia. Perché le partite non si vincono solo al primo minuto, ma si possono vincere con calma nella durata della partita. Ho visto una squadra che ha un'organizzazione, ha un'idea, che cerca di fare la partita e che sicuramente vende cara la pelle, che combatte fino all'ultimo secondo. E quindi da questo punto di vista sarà sicuramente una gara molto molto difficile.